Allora, benvenuti, oggi è un piacere di proporvi questo appena acquisito. Ci troviamo in Viantolini, nella parte finale della via. È un posto ad un quarto piano, ha un posto auto di proprietà assegnato, chiaramente. Quindi iniziamo con la vista, questa è la zona d'ingresso, la porta blindata, il riscaldamento e l'acqua calda sono tutte centralizzate. Allora, andando alla nostra destra, questa è l'ampia cucina living, come si può ben vedere. Abbiamo una prima dispensa, che è questa, continuando. Gli infissi sono di allumina di prima generazione, già con doppi vetri. Qui siamo immersi nel verde, come vi dicevo l'esposizione è un est, nord, quindi nord-est. Siamo immersi nel verde della tranquillità. Questa è una bellissima loggia, come si può ben vedere, vividissima, dove si può mangiare. Continuando con la vista, rientriamo dentro. Andiamo a vedere quella che è la prima camera, quindi questa è un'altra inquadratura dell'ingresso, con in fondo la seconda dispensa. La zona d'ingresso funziona appunto come salotto, eventualmente. Questa è la camera singola, che si rimette in maniera naturale a quella che era la loggia, che abbiamo visto prima. L'impianto satellitare, appunto, è autonomo. Continuando con la visita, qui abbiamo questo bagno, perfetto, nelle sue parti. Come si può vedere, la vasca. E qui abbiamo l'altra camera, la camera matrimoniale, grande. Vi faccio vedere la faccia. Apriamo le finestre. L'esposizione è immersa nel verde, nord-est. Quindi una casa che risulta poi luminosa durante tutto l'arco della mattinata. Quindi il ripieno veloce della casa, appunto questa è la camera da letto ampia, grande, come si può ben vedere. Il bagno. La zona d'ingresso, che fa da salotto con la dispensa. La porta è blindata, tra le altre cose. La camera singola. E qui abbiamo la cucina. Voglio terminare la vista, appunto, con la parte esterna, particolarmente gradevole, immersa nella tranquillità e nel silenzio. Ci troviamo in via Antolini.